Nikon ha un viso ovale, carnagione rosa e occhi castani. Durante la consulenza Nikon ha espresso due desideri, schiarire bene i suoi capelli e per quanto riguarda il taglio rinfrescare solo la parte sciuppata. La nostra scelta per quanto riguarda il taglio appunto è stata quella di rinfrescare i perimetri dando una scalatura solo nella parte anteriore del viso. Per quanto riguarda la scelta tecnica abbiamo deciso di effettuare Blonde Experience. Abbiamo schiarito, tonalizzato e ricostruito i capelli di Nikon rispettando le sue aspettative. Lucentezza, luminosità e setosità.